La foglia, l'ho subito scherzato con lui appena l'ho visto prima del collegamento perché indossa la maglia con il numero 17, io sono molto superstizioso lei no, ma normalmente gli sportivi sono superstiziosi No dai, diciamo per me la superstizione è dei deboli Grazie, grazie del complimento Non è un'offesa, però no, non sono superstizioso Sì, nel calcio c'è tanta superstizione, anche negli allenatori, nei magazzinieri, queste cose qui ce n'è tanto, però io non... Va bene, allora lei è l'eccezione Ecco, lei domenica scorsa è stato protagonista prima con un gol annullato e si è visto poi che era un gol regolare perché la sua posizione era non di offside e poi è stato protagonista, in questo caso attivo con il tiro che è finito sul palo e che ha permesso a Coco di pareggiare un bel bottino immagino Sì, sono contento per me, ma soprattutto per la squadra perché abbiamo raggiunto il pareggio e potevamo vincerla ecco, abbiamo avuto molte occasioni però un po' per sfortuna, un po' per, come dice lei, errori purtroppo arbitrali che ci sono, però è finita in parità però siamo contenti Ecco, nella parte finale del secondo tempo lei è stato uscito a Sar lei è retrocesso sulla linea mediana diciamo, in asse con Carotti il suo ruolo, cos'è più l'esterno che ha ricoperto fino appunto a questo spostamento o quello di giocare davanti alla difesa? No, io il mio ruolo non lo so di preciso dico la verità perché tutti gli anni cambio Ma dove si trova più a suo agio? Non lo dico me lo tengo no, no, nel senso All'allenatore l'avrà detto, su No, gioco dove vuole il miss ecco, io l'importante è giocare come si dice quindi no, mi trovo bene in tutte le posizioni poi ho questa, diciamo questa fortuna di poter ricoprire più ruoli quindi mi adatto un po' a tutte quelle che sono le esigenze del miss Ecco, domenica è sabato prossimo perché si gioca, ribadisco, a Sant'Arcangelo con Rimini sabato prossimo mancherà probabilmente Giuffrida è probabile quindi che lei ritorni a fare centrocampista centrale Bisogna chiederlo al miss Io sapevo, ho fatto la domanda provocatoria ma immaginavo la risposta Bisogna chiederlo al miss Ecco, allora andiamo sul generale che è più semplice lei si trova bene a Macerata dopo anni in cui ha collezionato un notevole numero di partite nei campionati professionistici Macerata è un buon traguardo per lei Sì, sì, è un bel posto c'è un bel progetto c'è tanto calore da parte del pubblico ci ha fatto molto piacere sabato quindi speriamo che siano sempre numerosi qui si sta bene c'è la giusta atmosfera per poter fare un buon campionato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti